E si ritorna con uno dei miei format preferiti di T-Pock Place Ovvero, casa da un euro contro casa da un milione di euro E quale case effettivamente non abbiamo mai avuto a che fare Soprattutto se poi vengono costruite da sole e dobbiamo costruirle noi Mi piace ancora di più Ancora meglio, Steph, perché noi facciamo schifo a costruire Quindi almeno vedremo delle case belle dovendole solamente craftare Il primo è un letto, vedo Sì Poi c'è del vetro Ma sai che io ho un problema? Qual è il tuo problema? Che tenendo in prima persona non vedo le cose che devo craftare Mi dispiace Perché devo tenere le sue F e mi ero dimenticato Allora, vabbè, il letto lo sa craftare chiunque Il vetro lo sa craftare chiunque Però aspetta Sì, era strano, lo so Il vetro è molto strano Lo so Quindi non è che lo sa fare chiunque E poi per fare la casetta ci servono due pezzi Ok, va bene Allora, mi è tutto molto chiaro Ma ti domando Secondo che dobbiamo prendere il letto da qua? No, non posso spaccarlo No, infatti sarebbe stato troppo semplice Cosa serve per il letto? Oppure cosa faccio? Per il letto ci serve ad esempio la legna Vado a cercare il vetro, che faccio? Sì, vai a cercare le bottiglie di vetro Ma io qua non posso comunque rompere Quindi non posso Allora, Steph, qui c'è della spugna Allora, queste cose strane io non le comprendo Ve lo dico già, eh Allora Allora, che c'è qui dentro? Aiuto Cobblestone Cobblestone Però ci serve la cobblestone in questo momento Ci serve anche la cobblestone Puoi far quello tu Ok Ti lascio lavorare la cobblestone Però puoi cercare le bottiglie, no? Ci sto vannando Allora Steph, non hai idea di quanto è bello spaccare la cobblestone con una motosega È una di quelle cose più belle che io abbia fatto nella mia vita Quello non era un bel posto E qui c'è una zona con la canna da... Che carino Allora, fammi vedere un pochettino Ok Ah, devo pescare Ottimo Devo pescare Vai, 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 vai Ok, vado Fammi sapere come va Posso pescare sia del wool Sia del legno E infatti ho trovato uno di wool Quindi per fare il letto E per fare la casa Devo pescare È fantastica sta cosa Carino Evidentemente non avrò gli attrezzi Che mi permetteranno di prendere dagli alberi La legna Eccetera, eccetera Sarà quindi più semplice Bello, bello inizio Mi piace Mi piace Voto 10 Bellissimo Due di lana Tu come sei nanno? Sei prendo molta? Eh sì, tantissima Ok, tanto avanza Perché lo sai che con la cobblestone ogni volta Guarda, ogni volta ce ne serve proprio a cascionate Quindi io vado, vado Quando nel momento in cui ti serve aiuto Smetto e faccio altro Guarda, teoricamente mi potresti dare una mano a pescare Perché ci sono due cane da pesca Arrivo, arrivo Però se vuoi In questo momento lo lascio tutta nelle casse Ne ho guadagnato una stack più altre 53 Va benissimo Va benissimo per ora Dove sei andato a pescare? Ah, ecco Steppo Lì giù al laghetto Allora, ho un problema Quale? Trovo costantemente la lana Non trovo mai la legna E mi servono entrambe le cose Ok, ho ritorto la legna Meno male Allora, perché legna me ne servono quattro Lana invece sono già a posto Il vetro Non so dove trovarlo Ma per adesso non ci serve per le cose da craftare Quindi per fortuna è tutto ok Credo che in realtà potremo anche già andare Lo sai? Dici? Ti basta così? Sì Prendiamo giusto questi due entrambi Andiamo Forza, 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 forza La canale pesca me la tengo Non si sa mai che mi possa servire È tempo di craftare la nostra prima casa Allora, quindi Forza, forza Dobbiamo tornare nella nostra sorta di bunker Non era neanche un bunker Era Una fogna Non lo so Una casa di terra Ma neanche Perché poi c'è un letto a castello Una cassa E una crafting table fine Cioè se questa la vuoi definire casa Hai tu due di legna, giusto? Io ne ho uno Me ne ha dato uno Mi riesco di smettere di pescare Ecco, fatto Lanciami uno di cobblestone adesso Arrivo Molto gentile Tieni Quindi stiamo andando a craftare la nostra prima casa Quella che vale 10 dollari Aspetta, fermo Eccola, 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 eccola Wow, ma si costruisce da sola Stavo per dire Secondo me devi aspettare un pochino Ma che bello Guarda come si costruisce Questa sarebbe la mia vita perfetta su Minecraft Assolutamente sì Buttare un qualcosa Come le capsule di Dragon Ball, no? Bello E tu le lanci e c'è quello che ti serve Allora, non credo sia normale questa cosa Ma ho ottenuto 63 anni di star E terremo qua dentro Allora, a questo punto posso togliermi tutte le prime recipe Anzi, tengo questa Dimmi Cioè, da dire che quella di 10 dollari è uguale a quella che avevamo prima Però leggermente più larga Beh Non che sia cambiato da più Nello spazio utile Però 10 dollari ci sta Cioè, tu pensa, se ti paghi questa casa a 10 dollari Sei più che felice su Minecraft Scusami, ma in Italia non tanto Allora, i blocchi che possono essere compressi Lapislazuli Redstone Cobblestone Oro Nether E iron Ok Tutti minerali Lo posso appendere qua? No Però lo tengo comunque qui Perché così è meglio Cioè lì a fianco Quindi è quello che ti serve ovviamente Per fare la casa da 100 Serve Due di cobblestone Più uno di cobblestone trasformata Più quattro di legna Più un letto Più una porta Per fare una porta abbiamo bisogno del vetro Dei bastoncini e della legna Io bastoncini ne ho due Ok Li ho pescati Io ne ho cinque Siamo a posto sui bastoncini E la legna però serviva quella cruda, no? Allora, sì, però mi hanno dato l'ascia Quindi fin qui tutto bene Come otteniamo il vetro? Io controllo qua dai minerali Non si sa mai che magari c'è qualcosa lì Non è che ce li dà qualche mob Sì, le witch stuff Dici? Sì Perché? Sono qui Ci danno le bottiglie di vetro, sicuro Sì, le dobbiamo picchiare con un'ascia Coraggiosi Proviamo Allora, magari non ci fanno danno Come succede sempre Vediamo Vediamo Facciamole apparire Vediamo un po' Ho paura, eh Anche io Ci sono pure scheletri Altre witch All'inizio ci mette sempre un sacco E fa venire un'ansia incredibile Eccola Ok Ok Sì Vedi, sei, me ne ha date, Steph Ferre, c'è un robot Come c'è un robot? L'ho steso, mi ha dato del ferro Wow Ok, sappiamo dove ottenere il ferro Interessante Quindi non era uno scheletro Questo, ho visto con il caldo di grigio Ho detto uno scheletro Figurate se mi immaginavo un robot No, è un robot Allora, witch, witch, witch Ok, un'altra Tu hai una bottiglia? Ne ho sei, ti ho già detto Sei Sì, me ne ha date sei Sei anche me Possiamo andare Vabbè, chiliamo queste che sono comparse Anche robot Che male, altre che non possono attaccare No, no, ti fanno male Ti fanno male Sì, sì, sì Mamma Non voglio Di solito i mob sono fatti solo per essere fermati Ovvero che non ti fanno danno E tu puoi prendere quello che ti serve Però in questo caso fuggi Fuggi Che male Fuggi, fuggi, fuggi Sono avvelenato Per quanto sono avvelenato? Trenta secondi Però per poco Transformata che non ho Perfetto Mi sono dimenticato Stava andando liscio, eh Stava Era proprio Mi dai la cobblestone? O l'hai messa tu a comprimersi? No, vai Ne ho compresso solo una Perché poi dobbiamo vedere cosa ci servirà Compresso, non compresso Tu vuoi affermare l'altra cobblestone? Qua posso farlo? No Maledetto infame Ti odio per te Solo le lame Sei bastoncini E io ne ho cinque Quindi mi devo far dare un bastoncino da fere Fere, vieni Uno di vetro E due di legna Sì, sono un attimino in tenta Ce ne sono troppissimi Ma Non riesco Non so perché Io vengo da sola qui E ne spawnano cinquecento Guardate Ma basta Li mollo, li mollo No, no, no Prima era tre mila volte peggio Erano il triplo, Steph Ma Fere, li hai fatti arrabbiare? Ma non lo so Può essere Ok Però un sacco di roba Sono qua perché tanto so già Che comunque il ferro ci servirà a cascionate Come la cobblestone E mi è appena capitato Che un robot Mi ha dato direttamente un blocco di iron Che è stata una bella fortuna Ottimo, ottimo Questa è veramente una bella notizia Vorrei una bella spada Caro creatore delle mappe Sai com'è? Se devo combattere Non posso avere Quasi rotta l'ascia poi Andiamo via E dopo che la rompo Che succede secondo te? Forse dobbiamo smettere di utilizzarla Per combattere Anche secondo me Anche secondo me Anche perché tanto mob Tanto pesco perché poi magari pesco anche altre cose utili Esatto Prendo i bastoncini e ci faccio due spade Perché secondo me è la cosa migliore Un blocco trasformato Due così Un letto che abbiamo avanzato da prima Una porta Abbiamo avanzato Quattro blocchi di legna E signori e signore Abbiamo una casa da 100 dollari Secondo me se tu scrivessi il vocabolario di Steph Faresti un successone Io voglio scrivere il vocabolario di Steph Sì anche io penso che tu lo debba scrivere Steph Però Per rendere più L'umanità ne abbia bisogno Di più semplice comprensione i nostri video Capito? Perché magari se no Bisogna iniziare Ah quindi cerchi le traduzioni? Eh sì perché se no poi devi iniziare a mettere i sottotitoli Diventa complesso Steph Bello Perché tra un po' arriviamo a quel punto Bello Mi piacerebbe un sacco Allora ho preso tantissimi bastoncini Un blocco di legno e un blocco di lana Non so se ti servono Per fare il pane Ferri ci hanno dato le spade Tutto chiaro adesso no? Ok Facciamo così Forse non era il momento adatto Però sì che era il momento adatto Perché le bottigliette ti servono E te le danno le witch Quindi non potevi fare nulla Allora Arrivo Abbiamo un problema Che problema? Ci serve tutto Tutto cosa? Pensa a tutto quello che può servire Ci serve per fare la casa da mille Allora dimmi Perché io un po' di cose ne ho Ehm Fai mente locale Steph? Per adesso vieni qua a minare Vai a prendere Stavo riflettendo Vai a prenderti il piccone Lo trovi nella cesta Della nuova casetta Che ho costruito E poi vai a vederla Ma non mi hai fatto vedere la nuova casa? E infatti Schifoso e infame Per te sono le lame Che bella da fuori Dai inizia a essere anche abbastanza spaziosa Inizia a non essere più claustrofobica Come le precedenti Perre Dobbiamo arrivare a una casa da un milione Quella sarà bella Spada Spada Eh sì Quella sarà Quella mi immagino una villa ultramoderna Anche perché hai visto La prima era di terra ovviamente La seconda Legno e cobblestone La terza è bella Perché di quelle un po' più complicate Bella bella Allora ho preso tutto quello che potevo Infatti adesso sono responati Teoricamente 36-28 Fammi capire Ne servono 2-2 Quindi 9-18 Ce li ho Il ferro ce l'ho La legna ce l'ho Ma non possiamo prendere tutto tutto vero? Tutto tutto Non può Pre tutto tutto No 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 Devi pescare Sei andata a pescare? Sì prima E cosa tutto hai preso? Allora Ho 5 bastoncini 2 di legno E 2 di lana White wool Mi veniva da dirti Forse Ti dicevo Non posso prendere gli smeraldi No? No perché possiamo Solo lapis Rapis e redstone Ok che tristezza Allora non sarei venuta a minare Stef Lo so Devo craftare Lana Ottimo 2 letti In questo modo E poi in altra porta Non ho effettivamente bisogno di craftarla Quindi A questo punto Se noi andiamo qua E dobbiamo andare qua Perché c'è il macchinario Poi controllo se c'era anche lì effettivamente E trasformiamo questa cobblestone In questo modo E ci riacchiappiamo questa E poi noi andiamo qua E vediamo se c'era anche il macchinario Che sono curioso C'era anche il macchinario E ci mettiamo a trasformare Tutto il lapislazzuli E tutta la redstone E poi apriamo la crafting table Di questo posto Che è gigantesca Prima facendo F E noi andiamo a mettere Due di cobblestone lavorata qui Spero di aver ricordato di aver tutto Due di questi qua Guardate come in silenzio fare in questi momenti Due qui Mi sto addormentando con la pesca Questo così Questo così Questo così La porta Qua fare Per essere Che siamo ancora Quella da mille Il crafting è stato Fuori di testa Eh immagino Ho sentito tutto il procedimento Ti stavo ascoltando Non è che non ti stessi ascoltando Signori questa è una vera villa Io ti consiglio di venire a vederla in diretta Sì un attimo Fammi finire questa pescata Perché ormai c'è il pesciolino Anzi il bastoncino che arriva Quindi Dov'è il nether wart? Hai visto la zona del nether wart? Eeeh No Tipo la pietraforma Questa di diamante Ma per il nether wart Perché lì vedo quella in oro Dall'altra parte del fiume La vedi? Ah non la vedevo Sì E allora magari starà sempre qui sopra Sto guardando dall'alto Sei sicuro che ti serva un nether wart? Sì me lo scrive Perché vedo quella in diamante Quella in gold No vediamo Giriamo tutto Prima o poi la troviamo Per forza Beh però stai andando in posti un po' strani a controllare Io salgo in alto Perché dall'alto Le cose si vedono meglio Qua poteva essere un bel posto Per mettere una casa Ok Vediamo Sta comparendo La vedo la vedo Arrivo Uuuu Sembra bella Addirittura dell'ossidiana Questa è super di valore Uuuu Questa inizia a valere Guardate che bellina Che carina Eh sì Poi guarda Almeno abbiamo già il pavimento di lana Quindi le cose un po' più elaborate Con il tappeto E guarda quanto è alto Molto carino Guarda quanto è alto Sì si sta ancora costruendo Che adesso manca ancora il soffitto Ma è veramente altissima Mmm O non ha il soffitto No 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 La sta facendo Sì che ha il soffitto ovviamente Dai lo esageriamo In una serie come casa Eh sì Inizia ad avere davvero senso Guardate che bella Ma qui Che fastidio Aspetta Ah perché non ha finito Ok Ah dai finisci Io ho detto Al massimo ci metto una scaletta Esatto Brava brava È quello che sta facendo eh Perché vedi che c'è la ladder C'è la trapdoor La trapdoor Quindi adesso compare la ladder qua E noi possiamo andare Lì sopra del tetto Per costruirla Bellissimo Allora piuttosto Vediamo un pochettino Ci ha dato Ok Abbiamo il piccone migliorato Ottimo Dov'è Eccolo qui Poi Ci servirà ancora quello precedente Mollo Mollo qui dentro Non lo so Mollo qui dentro Che c'è Da mille Mi ha dato direttamente Quella della centomila Cioè Ho direttamente Quella della centomila Bene Facciamo le cose in grande Perfetto Ferre Ho notato anche una cosa Cosa Cos'hai notato Torno in casa Aspetta Che stai combinando Steph Lo so È un po' strano Però Ce l'abbiamo in casa Ora ho capito Perché i tetti erano alti Non perché doveva essere Una bella casa L'ho già visto dalle finestre Ok Con Salini Ci fermiamo così Dovremo affrontare una casa Veramente tosta Oltre che scale Ecco cosa stavo fermando Ma veramente Veramente tosta Lo faremo nel prossimo episodio Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Noi siamo troppo felici Come sempre Di aver fatto Questo video Perché sono veramente Divertentissimi E con le case È ancora più divertente Perché le vedi costruirsi Ed è una figata pazzesca Qui state con voi altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao